Ciao ragazzi, sono Bjorn e sono contentissimo di... Soprattutto perché mi è arrivata un'email da parte di un lavoratore di level 5 che mi ha, a quanto pare, dato una possibilità riguardo a mostrarvi il trailer di Inazuma Eleven Go Galaxy qua in Europa, in anteprima! Quindi, venevo di godercelo subito! Sono eccitato come una Pasqua e so che comunque, cioè, sono uno dei maggiori esponenti qui in Inazuma Eleven e qua in Italia E guarda caso io ci credo proprio, sì, c'è proprio 165 iscritti che ti fa proprio tra i maggiori esponenti non come gli altri canali che hanno 5.000, 10.000, 15.000 iscritti Ma vabbè, passiamo avanti Però detto questo, visto che sono davvero contento A parte che mi sottaglio dei capelli, cioè, sto abbastanza bene direi Anche se sembrerà un po' strano per voi avermi visto cambiarmi i capelli, però... Cioè, sto meglio così, dai! Voglio fare questa reaction con lui Perché, insomma, lui è un po' la mia vita, quindi, cioè, credo che si merita un posticino, dai! Perfetto! Non badiamo a spese! Cominciamo subito a reagire a quest'anteprima Sì! Cominciamo subito… Per farvi soffrire di più, davvero? No, davvero? No, davvero? Aaaaaah! Allora, qui trovate il profilo Instagram di questo qui. Qui trovate invece il profilo Instagram del gruppo, mentre a qui sotto potete trovare il link a Telegram, Instagram e Facebook, anche Discord. Mi bello, aiutatemi, ho paura! Aaaaaah! 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 Cerchiamo di prenderla in questo caso. Poi se qualcuno se la prenderà non mi interessa di nulla, perché tanto quello che ho fatto è solo un gioco, mi sono divertito a fare questa cosa, ok? Alla prossima da Bjorn!